Ehi ragazzi! Ho una sorpresa per voi! E cioè? E il diario lui! Fantastico! Dove l'ha comprato? L'ho voto in omaggio in edicola! E cioè? Dai! In omaggio? Non ci credo! Sì, è in omaggio con l'ultimo numero di... ...di... ...cioè? Correte anche voi in edicola! Cioè vi regala un fantastico diario! ...